Si respira voglia di normalità in passeggiata a Viareggio, nonostante la nostra regione continui a rimanere in zona arancione, in questa che doveva essere una delle domeniche trainanti per gli acquisti natalizi. Il sole sicuramente aiuta a ritrovare un minimo di umore positivo e Viareggine hanno dato il via ad un timido shopping domenicale, con diversi commercianti che iniziano a vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma guardi, per il momento sembra che ci sia un po' di movimento, le persone sono diciamo un pochino più positive nel comprare, si spera, anche ieri nonostante il tempo ci accompagnava c'è stato un po' di movimento, insomma, speriamo che continui così via. Ascolta, ieri è stata una giornata abbastanza bellina, dai, il tempo ci ha aiutato e quindi bisogna pensare positiva anche se è un termine che non si può usare, comunque, sì, dai, bisogna essere forti. Ma non per tutti il passeggio domenicale è sinonimo di buoni affari, pochi infatti sacchetti e pacchetti di Natale in giro, colpa soprattutto della mancanza di clientela proveniente da altri comuni. Una mazzata continua alla zona arancione per quelle attività che della loro esclusività territoriale fanno uno dei punti di forza. No, no, decisamente no, anche perché con questo discorso delle zone arancioni e così per noi si è fermato tutto e speravamo tanto che diventavamo gialli proprio per fare arrivare gente da fuori e invece niente. Io non dico che la situazione è quella che è, cioè tutti abbiamo capito, però questa situazione che non è stata, diciamo, proporzionale a quello che è il rapporto delle altre regioni e non la capisco. Io non sono d'accordo, lo dico proprio chiaro e tondo, non sono d'accordo. Ma quello che più di tutto rende questa domenica ancora più anomala sono le saracinesche dei ristoranti abbassate. Un duro colpo per la categoria che difficilmente sarà ammortizzato dalle concessioni previste per le festività.